ciao a tutti ragazzi sono adrian ben tratti sul mio canale sono qua in quarantena e oggi vi faccio un video molto extra per chi si è posto questo quesito lo voglio fare su assassin's creed black flag in molti manoscritto che non si trova la taverna quindi adesso andremo risolvere tranquillamente il problema questa è la mappa del posto e la taverna è più o meno in questo punto qui facciamo non si può fare il viaggio rapido però si può fare qui collochiamo per meno quel segnale ecco andiamo a mettere il viaggio rapido video extra video breve e quindi spero che per quelli che hanno questo dubbio possa essere utile raro che faccia video del genere basta solo trovare il punto adesso camminando con edward è comunque su quella stata lì vicino a quel bivio insomma eccola qui non compare sulla mappa compare solo quando viene sfruttata come compare sulla minima mappa ma non sulla mappa grande c'era sempre un esempio per sconfiggere i banditi come tutte le taverne dall'inizio del gioco e dopo di che la taverna viene sbloccata tutto questo ragazzi niente spero che il video vi sia piaciuto più che altro tornato utile per chi ha avuto questo problema a cui anch'io ho dovuto rimediare e ci vediamo alla prossima continuiamo con la serie e magari con qualcos'altro ciao a tutti